Oggi mi sento buona, voglio regalare due di questi gadget di tsunami a due persone qui prese a caso in palestra solo se vinceranno questa sfida Andiamo a cercare qualcuno Ciao Ti volevo chiedere se ti andassi di partecipare ad una sfida, c'è l'opportunità di vincere questi due gadget Ok, facciamo Andiamo Cerchiamo l'altra persona A lui, perché? Ciao Ciao Ti va di partecipare ad una sfida, potresti vincere uno di questi gadget Ma sì, dai Andiamo Andiamo, andiamo Stai contro di lui, eh? E' forte Siamo qui con Antonio E Francesco La challenge consiste nel rimanere appesi in alto Devono rimanere sospesi Vediamo chi dura più Chi dura più tempo Va bene Partiamo tra 3, 2, 1, su Antossi a perde Tagli Tagli È andata È andata È andata È andata Ha vinto Francesco Ma come hai vinto Francesco? And the winner is Francesco Tagli il Francesco Ragazzi, chiaramente abbiamo un vincitore che non sei tu Il gadget va, una magliettina a lui I secondi, quanta differenza Giusto per non farlo rimanere male, gli diamo un cappellino Ti ringrazio Magari me lo giri, così sembro pure più A sketchum Esatto Comunque il vincitore è Francesco Esatto Non esistono né perdenti né vincitori Abbiamo vinto in tramo Vanno vinto in tramo Ottima Scusate